Preoccupazione per i fondi del Masterplan? Molta preoccupazione, io voglio sottolineare questo aspetto. Il Governo ci ha dato per il 2018 1.300.000 euro che stiamo impegnando, per il 2019 3.500.000 euro. Sono pochissime cose rispetto ai 116 milioni necessari per la Siviari. La Regione Abruzzo, senza avere nessun obbligo, e questo lo dobbiamo sottolineare, quindi il Presidente D'Alfonso ci ha assegnato 16 milioni di euro per la provincia di Chiedi, di cui 9 per il Vastese, che dovremmo spendere nel 2019. Se va in porto il decreto dei 5 Stelle del Governo Gianlo Verde, noi dovremmo rinviare tutto di due anni. Io ho detto già ai deputati e ai consiglieri abruzzesi di 5 Stelle di venire a dirci questa cosa di fronte ai sindaci, di fronte ai presidenti, perché veramente questa è una cosa impossibile da rinviare. Noi siamo in grande difficoltà, per cui speriamo che ci ripensino, altrimenti scenderemo in strada e protesteremo. Grazie. 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 Grazie.